Continua il momento magico dell'Acedonia che con la terza vittoria consecutiva si trova a 9 punti in classifica. La nuova gestione del presidente Fede e del vicepresidente Patanella convince i tifosi numerosi al seguito. La conferma che la squadra dell'Acedonia ha una ricca storia alle spalle partendo dal dopoguerra e degli anni 70 è obbligatorio ricordarsi del grande bomber Peppino Palladino e di tanti altri calciatori che hanno fatto la storia dell'Acedonia che ha giocato gli spareggi per la Serie D. Oggi il nuovo corso firmato Fede potrà dare il rilancio al calcio all'Acedonia ma qual è la tipologia del progetto? È un nuovo progetto dopo questa pandemia che ci ha un po' tagliato le gambe un po' a tutti noi a tutta Italia e a molti settori compreso quello dello sport siamo qui a ricominciare a ricominciare. Ci siamo ritrovati dopo un lungo stop intorno a un tavolo dove mi hanno proposto se era possibile la carica da presidente. Io ho accettato questo incarico anche avendo altri molti impegni ma vogliamo impegnarci per il nostro paese che ha un pezzo di storia importante dal punto di vista calcistico ma non solo. Ricordiamo qui che l'Acedonia ha avuto una grandissima storia calcistica e ha scritto tantissimi libri di storia. Noi ci ritroviamo qui oggi con l'intento di continuare non a riscrivere ma di continuare a scrivere la storia dell'Acedonia calcio su tutti i gambi che si rispettano. Con il dirigente Madrangolo qui nelle immagini uno dei massimi dirigenti della società sportiva dell'Acedonia un progetto bellissimo progetto che si basa soprattutto sui giovani ecco voi punterete sui giovani e spieghiamo un attimo appunto le risorse giovanili che l'Acedonia dispone. Salve a tutti dopo tanti anni di calcio quest'anno non c'avevo voglia di fare niente volevo fare solo scuola calcio una mia scuola calcio timmata però parlando parlando con il presidente Michele con Gian Gallo con Lucio ho visto che sono persone che persone eccezionali che in giro nel mondo del calcio non esistono sono persone che che veramente cacciano loro l'euro per questi calciatori qua. Niente siamo partiti dai bambini poi siamo partiti da zero come terza categoria per fare tre quattro anni alla grandissima siamo fortunati che tutta la cittadinanza ci segue e siamo fortunati che con la prima squadra ci sono 5-6 2005 che possiamo vivere per 5-6 anni su di loro. È un bel ambiente pulito fatto di sani valori. Sono con il direttore tecnico Palmisano ecco direttore qual è stata la reazione dei cittadini dei tifosi che praticamente hanno visto nascere una nuova gestione dell'Acedonia che ha la possibilità quest'anno di poter vincere il campionato. Noi stiamo cercando di creare un gruppo di giovani qua all'Acedonia perché un paio d'anni siamo stati senza non operativi. In pratica stiamo organizzando proprio una comitiva di giovani per creare un'accoglienza. Infatti i cittadini sono tutti fedeli, sono attaccati a questa squadra, anzi stiamo realizzando ancora belle cose. Il campo sportivo qua l'abbiamo ampliato, abbiamo fatto delle tribune che sono uno spettacolo qua e stiamo creando questa storia vecchia di l'Acedonia che c'è stata la storia a l'Acedonia proprio di queste cose qua. E noi stiamo creando questo gruppo di giovani, meno giovani e stiamo facendo un gruppo che sta creando euforia intorno. Ecco perché ci tengo a dire come dirigente della squadra che siamo affiatati uno con l'altro. Siamo invece con il vicepresidente nonché vice allenatore della squadra dell'Acedonia Patanella. Ecco Patanella davvero un progetto sportivo importante. Da un punto di vista tecnico in l'Acedonia quali risorse tiene a disposizione come giocatori per vincere questo campionato? Buonasera, sono il vicepresidente nonché vice allenatore. Come è già accennato il dirigente a Matarangolo abbiamo varie risorse. Ci abbiamo gente che ha giocato anche in prima categoria, ci abbiamo ragazzini del 2005, ci abbiamo anche ragazzi provenienti da fuori paese nella vicina Rocchetta. Il nostro modulo è un 4-4-2. Ritornando alla Rosa abbiamo Palladino Mario come terzino, a sinistra abbiamo Albanese, Albanese Romelo, Albanese Teodoro invece con il nostro centrale Pelullo, saranno i centrali giustamente. Poi abbiamo due mediani, Caggiano Michele nonché Capitano e Quadrale Enrico, vecchia gloria come prima categoria, come anche il sottoscritto. E poi ci abbiamo le due ali, due ragazzini Albanese Dario e Corbo Antonio, ovviamente dalle giovanili. E poi ci abbiamo in attacco Melchion Antonio, infortunato e rientrato da un mese giustamente. E ci abbiamo Castellano che è di Bisaccia, prima punta. Il nostro traguardo giustamente sarà vincere il campionato.